Dudu! Eeeh, c'è il Puvetto! Buon appetito! Buon appetito! Oh, non è te lo vizio sconvolgente! Puvetta, calma, sei tutta eccitata! Sì, perché è bambata, Dudu! Tengo è bambata! Villa Smeralda è stata venuta, e sai a chi? Aurelia della laurea in miss! Stata zitta tu! Di più, se l'è incartato John Allen, il re della borsa di New York! Azz, un miliardario di Wall Street! Eeeh, io lo conosco benissimo perché la stagione passata l'ha già venduta una mappata di gioielli! E' buon per te, c'è chi è questo paperone, perché gioielli? Asce, ma è rurma, 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 ma non capisci! L'americano si deve arredare il villone! E' a Caprichia che tratta mobili antichi, tappeti, quadri, argenterie e bomboliere! A reggina! Eeeh, si è scatata reggina, capito? Io ti presento, e di più che tu sei il decoratore più irri di Capri, tu gli arredi il villone, e così ti sei fatto la stagione! Pupetta, che bello regalo che mi fai! Grazie! Grazie, no cazzo! Uèh! Uèh! Io voglio 50% che le spenne paperone caldini, capito? Ma che stai dicendo il 50%? È ricavato mio! E vabbè, facciamo il 30! No, 25! Ma sei tremenda! Eeeh, succo da neve neve! E io la puo dare, ma tanto! Buu buu!